Parcheggi ed interventi di riqualificazione in tutte le zone del territorio comunale sono stati previsti a Caprileone e riguardano sia il centro storico di Caprileone Centro come anche la popolosa frazione Rocca ad annunciarli il sindaco Bernadette Grasso che ormai vicina alla conclusione del suo secondo consecutivo mandato si tratta di progetti che miglioreranno la viabilità ma che si riferiscono anche all'ambito istituzionale e di valorizzazione delle risorse esistenti La villetta adiacente al parcheggio di via Carlo Alberto della Chiesa un altro parcheggio antistante alla caserma dei Carabinieri perché questa era una zona particolarmente trafficata quindi avevamo già acquisito due anni fa gli immobili e abbiamo ora proceduto e riqualificheremo quell'area altri interventi di riqualificazione sono previsti in piazza Gepifaranda al parco urbano perché sistemeremo il parco giochi quindi con dei tappetini antitraumi e ancora anche l'arredamento di piazza Gepifaranda stiamo restaurando il santuario della Madonnina e fra poco partiranno i lavori del campo sportivo con la copertura della seconda tribuna e la sistemazione delle tribune il villaggio scuole dall'asilo all'asilo nido sa per essere completato non solo con impianti fotovoltaici messi in sicurezza con le ultime norme antisismiche e ancora ieri abbiamo ricevuto la notizia che dal masterplan fra poco sarà notificata la determina a contrarre perché prevede la riqualificazione di Caprione Centro e in parte del centro storico di Rocca e fra qualche mese dovrebbero anche notificarci il decreto relativamente alla Chiesa Santissima annunziata di Caprione che era il famoso Ecomostro fra poco cominceremo anche i lavori di riqualificazione delle zone adiacente alle case popolari anche lì sono previsti impianti fotovoltaici e fra qualche settimana, questo dipenderà un po' dal Presidente del Consiglio e stiamo anche completando i lavori della Sala Consigliare che così come avevamo immaginato di intitolare lo faremo e intitoleremo a Falcone e Borsellino